Villa dei Misteri È la villa extraurbana più famosa dell'area vesuviana. Si visita percorrendo a piedi un piccolo pezzo di strada pubblica dopo essere usciti dagli scavi di Pompei. La villa deve su fama alla straordinaria megalografia, quasi una secuencia fotografica di scena teatrali, rappresentata sulle paredes del triclinio. Il complejo edificato si compone di due zone. Ma oggi si tratta di la villa sull'altra parte. La villa dei misteri è la sua famiglia, di una scena di immagini, quasi come una scena di scena di scena teatrali sulle paredes del triclinio. Il complejo edificato è da due zone. In le piacere, destinati alla produzione del vino, abbiamo trovato il pressoire per la pressurazione del riso. Di l'opposizione, al peristil, sono le cucine. Due furi nella scena, il l'arrere e una grande latrina. Il complejo edificato, il complejo edificato, il centro del terreno, è solo rossi e comforzare il giugno. Un'altra parte della città, con l'operazione di produttore di produttore, è stata installata a una primavera in un'erroge in un'erroge